Il fidanzato per la visibilità Ivana ha lasciato il fidanzato per la visibilità? Parla Lidia Bella Lidia Bella in radio parla delle voci sul flirt tra Luca Onestini e Ivana Marazzova, è vero o è solo una tattica per far parlare di sé? Lidia Bella, ospite a Non succederà più, stasera è stata invitata dalla conduttrice a commentare il grande fratello Vip. La ragazza ha molto apprezzato la vittoria di Daniele Bossari mentre, al contrario, sarebbe stata meno contenta di vedere trionfare nel reality Luca Onestini. Lidia infatti non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti dell'ex tronista e, telefonicamente, commenta anche le voci sul suo presunto flirt con Ivana. Luca e Ivana stanno davvero insieme o hanno archidettato tutto per far parlare di loro? È tutta una questione di visibilità? Probabile, dice l'ex concorrente del grande fratello. Sia Lidia Bella che la conduttrice, inoltre, hanno notato un particolare, sul profilo Instagram della modella ceca nonché traccia del suo fidanzato. Ivana Marazzova ha lasciato il fidanzato? Si sono lasciati davvero o sono solo dei rumors? Ivana, secondo Lidia, potrebbe veramente nutrire un certo interesse per Onestini ma, forse, ha voluto aspettare di uscire per chiarire le cose con la persona che l'aspettava fuori dalla casa. Una scelta questa che confermerebbe l'animo buono e dolce della ragazza, molto apprezzata dalla bella. Adesso dunque gli occhi di tutti sarebbero puntati su Luca e Ivana che, se davvero si stanno frequentando, non potranno certo tenere la cosa nascosta ancora per molto. Dopo la fine della storia con Soleil, dunque, per Onestini questo potrebbe essere un nuovo inizio. Lo stesso infatti ha affermato più volte di essere attratto da Ivana e di essere, allo stesso tempo, pronto a innamorarsi unaltra volta. Luca Onestini contro Soleil, fuori dalla casa del grande fratello lextronista torna a parlare della fine della sua storia. Ospite a Verissimo, Luca Onestini non ha risparmiato commenti negativi contro la sua ex fidanzata, Soleil Sorge. I sospetti che lui aveva dentro la casa sarebbero stati confermati poi una volta uscito. Lextronista non ha dubbi al riguardo, la ragazza conosciuta a uomini e donne aveva già intenzione di lasciarlo, ma ha approfittato del grande fratello Vip per avere una maggiore visibilità. La sorge risponderà a queste accuse? Certo è che Luca non sembra più intenzionato a tornare sullargomento. Ciao!